La cosa che mi ha colpito di più al Museo Egizio, stupendo oltre ogni aspettativa, non è stata tanto la tomba di Tutankhamon, questo faraone morto a 19 anni, probabilmente ucciso, la cui fine segna secondo me l'inizio della crisi di questa civiltà, dopo il fallimento del tentativo di suo padre, Eknaton, di introdurre il monoteismo in Egitto. La tomba riempie da sola un piano del Museo, con alcune migliaia di oggetti d'oro, compresi letti e poltrone d'oro, ed è praticamente l'unica tomba di Faraone che ci è giunta intatta, dato che tutte le altre furono saccheggiate nel periodo di anarchia che seguì di qualche anno la morte di Tutankhamon, e questa si salvò solo perché una frana l'ha nascose precocemente. Tu pensa che i faraoni sono stati centinaia, e che dunque centinaia erano le tombe così. No, mi ha colpito un piccolo gruppo in terracotta, apparentemente banale, che a guardarlo distratti rappresenta la solita donna e il solito uomo abbracciati per l'eternità. Guardi distratto e stai per proseguire, ma c'è qualcosa che non torna. Intanto la donna ha un abbandono straordinario verso il marito. Le si legge l'amore e l'orgoglio di lui negli occhi. Lui, invece, è quasi assente, allo sguardo fisso nel vuoto davanti a sé, con un orgoglio di sé sovrumano. Ma un momento, che strano. Quest'uomo non ha le gambe, come sembra. Le gambe sono come arrotolate sotto il tronco. Al posto delle gambe ci stanno due bellissimi figli, un bambino e una bambina, nudi, entrambi con l'indice sulla bocca, che intimano di tacere qualcosa. Che cosa? L'arrivo di una guida spagnola mi permette di chiarirmi meglio. Quell'uomo è un nano, che divenne ministro delle finanze del faraone. E infatti ora tutto torna. Quella testa troppo grossa, quelle mani tozze. Ed ecco spiegata una delle più belle storie d'amore che io abbia visto rappresentato, la donna innamorata del nano, del suo uomo che ha sconfitto il destino ed è diventato un grande ed ha avuto figli belli e degni.